Il cappello se vogliamo dirla con una frase di Bedeschi che ha scritto in 100.000 gavette di ghiaccio dice il cappello per un alpino è tutto, ti ripara quando piove, ti ripara quando fa freddo, se lo batti sopra ci puoi bere dentro a modo di gavetta, per un alpino il cappello suo è tutto. La rabbia e l'orgoglio, i primi sentimenti dopo il furto del cappello con la penna nera. Abbiamo ancora negli occhi 500.000 alpini che hanno sfilato a Milano per la 92esima adunata nazionale, 6.000 dal Vicentino. La città ha risposto in maniera molto bella essendo presente dall'inizio alla fine della sfilata. A parlare il capogruppo degli alpini di Pianezze di Arcugnano è arrivato sabato a Milano e come tanti altri si è sistemato con il camper a Parco Sempione vicino al Castello Sforzesco. Sono vedo sabato mattina e vedo tutti quanti i miei compagni sull'arrabbiato perché appunto mi dico ma cosa c'è e mi dico guarda che stanotte siamo stati visitati non solo noi ma anche un'altra decina di camper della zona e siamo stati oggetto di furto. Ci hanno portato via portafogli e documenti, portafogli vuoti poi li abbiamo ritrovati ma soprattutto ha rubato un cappello a un alpino che da 41 anni vale adunate con quel cappello e adesso non c'era più. E questo è stato il danno maggiore perché i soldi hanno un valore, il cappello ne ha uno inestimabile per un alpino. Il cappello ha un valore inestimabile per un alpino e le penne nere di Arcugnano non sono state le uniche vittime. Il sabato sera un pullman della sezione di Collico è stato oggetto appunto di atti di vandalismo con la lottura di un finestrino, il furto di tre cappelli e tre gagliardetti. Gli alpini vicentini sono tornati da Milano con questo dispiacere ma senza scoraggiarsi perché le penne nere non si abbattono mai, guardano sempre avanti consapevoli che... Il cappello lo può portare l'alpino, non uno qualsiasi.